buon pomeriggio a tutti da valerio rossi di br finanza smart education school con questo mio video volevo così fare un approfondimento su un servizio straordinario che ho condiviso con una società milano specializzata che si occupa appunto di dare la possibilità ai commercianti e a tutti coloro che vendono sia prodotti che servizi di poter aggiungere come sistema di pagamento a quello tradizionale che utilizzano in questo momento anche la possibilità di farsi pagare in bitcoin perché evidentemente il futuro sta andando in questa direzione e gli imprenditori più accorti e probabilmente anche più innovativi guardano questo con un con un certo interesse un grande interesse perché è sicuramente un'opportunità in più non va a levare niente alla quotidianità all'organizzazione attuale di ogni tipo di impresa ma da una possibilità in più che ritengo assolutamente nuova straordinaria innovativa andiamo a vedere esattamente di cosa voglio parlare di questo articolo che ho pubblicato sul mio sito dreyconsanti.net e che è intitolato appunto servizi di pagamento bitcoin per i commercianti bitcoin è ad oggi il metodo più sicuro economico e veloce per gestire i pagamenti è la valuta digitale più conosciuta più testata più affidabile sul mercato i costi di gestione sono i tre più bassi del mercato con 0 per cento di commissioni nessun costo installazione per i post bitcoin nessuna tassa spesa ricorrente per l'hardware o software per la tua azienda accettare i pagamenti online implica un'impostitura informatica che possa supportare garantire e mantenere sicurezza tutta la filiera dalla scelta della merce al pagamento carrello a chi è commerciante e accetta i pagamenti con carta di credito paypal e forse è capitato il cosiddetto charge back pagamenti annullati eccetera eccetera e non in situazione della merce qui ovviamente c'è tutto un procedimento per uviare a questi problemi ma soprattutto per evitare le frodi e rischi per i commercianti e anche per i consumatori ma allora come così è una provocazione ma non è solo una provocazione fate pagare in bitcoin chi ti paga in bitcoin lo farà attraverso un post software che l'azienda ti viene installare nel tuo punto vendita il pagamento sarà processato tutte le transazioni convertite istantaneamente in euro sul tuo conto azzerando il rischio di cambio ed eventuali difficoltà contabili tutto ovviamente secondo la legge italiana secondo le leggi fiscali esigenziali tutto ovviamente fatturato fatturabile tutto quanto riguardo diciamo a una giusta e corretta amministrazione di tutti quelli che sono le entrate e le uscite la contabilità e i rapporti con il fisco pagamenti sono irribessibili e sicuri a basso costo e il rischio delle frodi non ricade sul tuo business i rivorsi restano in tua mani dei commercianti che possono decidere la miglior politica in modo di nei temi più opportuni è globale non è ovviamente limitato a questo l'altro paese ma sicuramente in italia in cui è un paese un po indietro rispetto a altri paesi bitcoin consente ad ogni banca azienda privata di inviare e ricevere il pagamento in modo sicuro in qualunque luogo in qualsiasi momento con e senza l'ausilio di un conto corrente di poter pagare da chiunque tutto il mondo allargando i confini del tuo business ecco che il discorso diciamo pure rimanendo come sede in italia si può ovviamente aprirsi anche magari con un sito di commercio elettronico di e commerce e quindi ha un mercato più vasto è una clientela più allargata e soprattutto per un aumento conseguenziale di quello che può essere fatturato disponibile ovunque bitcoin e dove ci siano consegnate in una rete cellulare e in questo caso accettare bitcoin i clienti vengono da te e conversione istantanea cosa significa la persona ti paga in bitcoin il controvalore al momento viene immediatamente accreditato sul tuo conto corrente bancario e il servizio viene fatto da un grosso istituto innovativo che esiste in italia e che mette a disposizione insieme alla società di milano un servizio direi straordinario accettare bitcoin con mezzo che fornisce un'eccellente visibilità e soprattutto accettare bitcoin da risalto l'autorabilità avete mai visto qualcuno che accetta bitcoin pochi perché chiaramente c'è anche probabilmente una mancanza di conoscenza di consapevolezza di quello che è bitcoin e della sua potenzialità e di quello che può essere in prospettiva essere anche presenti su questo straordinario mercato digitale del valore che è destinato a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni la possibilità di un ritorno pubblicitare senza costi è difficilmente ottenibile come altri medi soluzione 100 per cento compliance quindi grazie a questa prestigiosa partnership che io ho il piacere di aver concluso possiamo proporre diverse tipologie di soluzioni in faccia immediati per accettare bitcoin presso il tuo esercizio commerciale se sei un'azienda e la tua valuta è l'euro grazie al nostro servizio possi pagamento sarà processata tra le azioni convertiti istantanei in euro alzerando il rischio di cambio e eventuali difficoltà contabili attenti a normative fiscali vigenti il servizio è conforme alle normative supportate da adeguate procedure di verifica del cliente e di partner in possesso di centri di payment institution 100 per cento compliance quindi vuol dire assolutamente in linea con le attuali leggi del settore sia fiscali che amministrative che di altro genere se sei interessato concretamente non esitare a contattarmi valerio.rossi chiocciola braveconsulti.net siete benvenuti nel futuro sistema di pagamenti 2.0 con questo vi ringrazio di nuovo dell'attenzione e vi rimando al prossimo video a presto